Torna è una sfida che è diventata ormai un cult del puttili, un cult del puttili, del carcio di eccellenza dilettanti in Puglia perché Bitonto e Barretta si sono incontrate tante volte, anche nel passato, ultimamente è capitato un po' più spesso a Braccetto sono scese dalla Serie D in eccellenza, hanno incontrato, dalla scorsa stagione, hanno però poi intrapreso due percorsi diversi durante questa stagione c'è un po' di delusione a Bitonto su quelli che sono stati gli esiti per il momento di questa prima parte di stagione? Beh, sicuramente c'è stato un passaggio a vuoto in questa prima parte del campionato e ho ascoltato con piacere ciò che stavate dicendo poco fa sul discorso mercato che io lo ripengo vergognoso, l'ho detto già ai vostri colleghi anche il Bitonto ne ha fatte le spese perché siamo partiti ovviamente con un certo budget siamo partiti con determinati propositi e purtroppo le cose poi non sono andate bene quindi abbiamo dovuto congedare Mr. Marasciulo e da lì sono cominciati un po' di mal di pancia ecco, io li ho definiti così, dei capricci di qualche tesserato che io così come tutta la società non abbiamo affatto digerito e capite bene che questo per una società come quella attuale del Bitonto che tende anche a ricostruire una certa immagine dopo la passata stagione è sicuramente deleterio, questo non vuole essere un alibi infatti abbiamo cercato subito di rimetterci in moto sostituendo quei ragazzi che non volevano più indossare forse la maglia del Bitonto tre acquisti importanti, sono arrivati tre acquisti importanti Bozzi, Petitti e Tedone saranno subito disponibili già da domenica e come diciamo che Bitonto ci dobbiamo aspettare al Purtilli magari vediamo anche le statistiche delle squadre a confronto ma questo non lo so dire, bisognerà chiederlo a Mr. Bitetto Petitti si è allenato oggi, credo che comunque stia bene ma ovviamente non sappiamo ancora se sarà della gara così come Bozzi ma voglio dire a parte questo triplo colpo che era dovuto, ripeto anche per la piazza noi siamo i primi a soffrire per questa situazione e credo con tutto il rispetto per le altre squadre del nostro girone ma Bitonto e Barletta soprattutto chiaramente io faccio veramente i complimenti al Barletta per questa prima stagione, piazza importantissima e dispiace per il Bitonto perché credo che il Bitonto per il suo blasone per la sua storia non sia secondo nessuno e ripeto un piccolo passaggio a vuoto l'ho definito ad altri vostri colleghi un momento in cui sta zoppicando una leggera zoppia, affetto da zoppia ma il Leone credo non sia per tornare alla tua domanda è un Bitonto che sicuramente non viene lì a consegnarsi è un Bitonto che per sua natura deve rugire e quindi ce la giocheremo sperando di trovare magari il Barletta in una giornata no, ecco, potrà capitare anche al Barletta di lasciare un po' di tutto per stare speriamo che sia proprio quella di domenica anche perché domenica è 17 quindi non si sa mai sfidiamoci alla cabala c'è della scaramanzia anche dicevo Luca questo è un Bitonto che può giocare un brutto scherzo al Barletta? è un Bitonto che ha dei numeri particolari intanto buonasera Brindisci mi fa piacere sapere che un dirigente la pensi come noi sul discorso mercato sempre aperto Sì, sì, no, scusami Luca Sì, sì, prego Sì, scusami se ti interrompo no, ma non guarda, io sono da poco nel mondo del calcio e molti mi dicono ma sai, purtroppo il calcio è così parliamo di eccellenza e non stiamo parlando neanche di serie C, serie B, serie A ma il calcio è così sai, ragazzi purtroppo va così io personalmente non ho peli sulla lingua non ho paura di dire quello che penso e credo che comunque gli organi competenti debbano intervenire perché questo è assolutamente vergognoso cioè tu tu federazione tu insomma sistema butti a mare un progetto che comincia con altri intenti all'inizio stagione e qua c'è gente che investe c'è gente che ci mette la faccia e poi non si può come dire stare essere succubi di qualche mal di pancia di qualche ragazzino questo assolutamente noi non su questo non transiggiamo era una parentesi che tenevo a dire no no ma credo proprio che le società perdano così potere contrattuale stavamo guardando delle immagini di una partita che al di là del risultato negativo per il Bitonto era il 4 febbraio 2023 emozioni bellissime Bitonto 2-1 secondo me ha regalato emozioni enormi a entrambe le piazze perché fu una partita giocata di sabato sera in un stadio stracolmo con un picco nervoso anche abbastanza rilevante decisa poi da una rovesciata di Polidori Barletta e Bitonto poi l'anno dopo si sono ritrovate in Serie D con una vittoria casalinga per parte hanno condiviso anche purtroppo il destino della retrocessione io chiedo a Giovanni Brindici qual è a questo punto l'obiettivo che vi siete dati in casa Bitonto avendo già operato una mini rivoluzione a livello tecnico sia in panchina che sul rettangolo di gioco se ti riferisci se ti riferisci alla stagione in corso ti dico ti dico non ne faccio un mistero sono 5-6 partite che io non guardo la classifica me l'hanno fatta guardare ieri in un'altra trasmissione perché purtroppo c'è stato ecco questo momento di sbandamento dal quale dobbiamo quanto prima riprenderci il Bitonto adesso deve pensare partita partita per partita chi indossa la maglia la maglia del Bitonto ripeto non me ne vogliono le altre squadre ma è una maglia pesante quindi dobbiamo risalire risalire la classifica immediatamente e cercare di commettere meno passi falsi possibili questo questo sì questa è una promessa che mi hanno fatto ai tifosi io in prima persona ripeto che non ho nulla da temere e non ho peli sulla lingua capisco la loro delusione la delusione è anche nostra e abbiamo cercato anche con il mister Bitetto insomma in queste ultime settimane ecco di inculcare nei ragazzi l'importanza di questa maglia Bitonto così come Barletta ma Bitonto non può subire un'ulteriore stagione fallimentare come quella dell'anno scorso perché nessuno la vuole nessuno l'ha voluta a inizio stagione quindi giocheremo partita per partita sin da quella insomma di domenica a Barletta dove tra l'altro insomma troveremo anche tanti ex e tanti Bitontini va bene grazie grazie Brindici grazie vicepresidente del Bitonto per essere stato con noi ovviamente ci vedremo domenica allo stadio che sia una bella partita in bocca al lupo di sport soprattutto certo grazie